Grande Fratello 2012, leggero rialzo, l'auditer, meno male, cominciano a respirare, se no il Grande Fratello chiude, perché quando è, no, si verrà parlato qualche settimana fa anche che avrebbe chiuso, oggi parlo molto veloce, voglio parlare molto veloce, Amedeo esce dal Grande Fratello, sembra uno che fa le tere croniche, puh, Amedeo esce e dice ciao ciao al Grande Fratello, anzi l'hanno fatto uscire, ha detto io vorrei uscire, e subito il pubblico è accontentato come note, ma andiamo via subito, e il Napoletano se ne torna a casuccia, Ascolti in Crescita, Ascolti in Crescita, all'auditel dicono che l'ultima puntata è stata vista da 4.219.000, basta, spettatori, per il totale del 17,86%, mentre sul Rai 1 il restauratore ha portato a casa quasi 7 milioni di telespettatori, 24.3%, macchinette, redazione, sì, no, ho parlato di Vasco Rossi, ma un po' gasato Vasco, perché la coroa fa casare. E tornando a Bomba, chi sono i favoriti del Grande Fratello Om 2012, per calmarci? Sono Gaia, per esempio, ma anche Vito, Vitozzo, Vito e Floriana e Armando, questi sono i favoriti, ma anche Ilenia, per esempio, sono i favoriti secondo alcuni blog che parlano del Grande Fratello 2012. Meno male che il Grande Fratello, l'auditel, piano piano risale, così i produttori e gli autori respirano, e soprattutto Mediaset respira. I video purtroppo di Mediaset su YouTube non si possono mettere, non si possono, anche quelli degli altri, ma quelli dei Mediaset come li mettete, puff, avvertimento, puff, avvertimento, puff, ciao, chiuso il canale, quindi mi dispiace, andate sul sito della Mediaset. Questo è un mio semplice commento base.